Quando diamo una data ad un sogno diventa un obiettivo. Un obiettivo suddiviso in passi diventa un progetto. Pensando di fare, per poi andarlo a riaprire verso fine anno, a fine dicembre, per vedere che cosa sono riuscito a combinare durante questi giorni. Un anno fa scrivevo il mio progetto, un'idea folle, adattata agli eventi, riscritta e poi messa in pratica giorno dopo giorno, senza concedermi pause. Ma ora eccoci qua, è il momento di andarsi a rivedere tutto quello che pensavo di poter fare a inizio anno. Se non ricordo male, avevo delle idee un pelo troppo ottimistiche, però c'è anche da dire che non avevo la minima idea che sarei riuscito a competere. Comunque, situazione generale a inizio gennaio. Ho appena cominciato la nuova avventura qui sui social, sono timido, sono impacciato e sono molto molto a disagio e soprattutto siamo in piena quarantena. Decido quindi di scrivere tutti i miei progetti e di metterli su dei biglietti in tipo questo per mettere un po' di ordine e decidere su cosa puntare di più. Ora però dobbiamo andare a scartare tutti i biglietti e andiamo a scoprire se ero realista oppure se ero solamente un pazzo sognatore. Abbiamo idee come tornare in pista? Tornare in pista? Beh, cosa mi dite di questa? Dite che l'obiettivo è stato raggiunto? Ho fatto nove gare in tutto, sei di campionato, una endurance e due garette così per ridere. Quindi, beh, direi che questo obiettivo è stato abbastanza raggiunto. Ah, dimenticavo, anche un turno sulla legend e un turno sul kart 125 due tempi. Entrambi sono stati goduri a pura. E adesso vi posso già dire che quando il tempo sarà un po' più umido e un po' più caldo tornerò in pista sempre su una legend, sempre a Castelletto per scoprire se sono ancora in grado di utilizzare la temutissima frizione. Poi pensate che nei bigliettini avevo scritto cose come una gara di kart. Una gara di kart. Beh, cosa ne possiamo dire di questo? Sicuramente ci avevo visto lungo. Ne ho organizzata una io stesso con tutti voi e poi, beh, direi che del campionato GP Series ne ho già parlato abbastanza quindi questo già lo sapete. Obiettivo pienamente raggiunto anche in questo caso. Poi, allora, nuova attrezzatura. Allora, di questo beh, possiamo dire tante cose perché sono diventato ambassadore di ZAMP e direi che questo è stato un grandissimo traguardo che mi ha portato ad avere il nuovo casco che, vabbè, conoscete già benissimo. Poi, beh, la tuta, i guanti, le scarpe, il microfono da studio il microfono per la videocamera, la luce da TikToker e per ultima, freschissima di Natale, la Insta360 Go2. Questo, secondo me, è un mega acquisto che rivoluzionerà tutte le mie riprese perché la qualità di quella videocamera è qualcosa di eccezionale. Se volete, io vi lascio qui sotto in descrizione il link per darci un'occhiata se vi interessa. Next one, allora, GP di Formula 1 diverso da Monza. Mettiamola così. Sì, vista la situazione Covid, è già stato un miracolo se sono riuscito ad andare a Monza. Quindi mi ritengo estremamente soddisfatto. Anche perché l'altro evento fattibile era Imola ma Imola è stato fatto ad aprile a porte chiuse quindi non si poteva andare. Ma nonostante ciò sono stato al Milano-Monza Motor Show che è stato un evento veramente incredibile dove mi sono divertito molto anche se Monza è stato senza pubblico quindi abbiamo girato solamente Milano. Per la guida di un'auto stradale a Castelletto e per la guida di una formula mi sono dovuto scontrare con la dura realtà. Per questo tipo di contenuti infatti è necessaria la patente e perché per darti mano a una macchina del livello di una formula o di una stradale di alto livello diciamo che preferiscono che tu abbia la patente e giustamente aggiungerei. Ma visto che io quest'anno la patente la farò questi contenuti saranno sicuramente parte del mio 2022 e finalmente arriveranno dei contenuti veramente gustosi sul canale. Questi ultimi due sono invece dei traguardi che col tempo capisci essere totalmente inutili ovvero i 1000 iscritti su YouTube e 10k su Instagram. Sono importanti per darti la spinta è vero ma a livello di soddisfazione non hanno niente a che vedere con le esperienze. Sono il primo a dire che non sono solamente un numero i follower sono la community che ti supporta sono persone prima di tutto che apprezzano i miei contenuti e per questo sono importantissimi ma arrivano di conseguenza al duro lavoro. Potrei anche avere 100.000 follower però se facessi una cosa che non mi piace non sarei comunque soddisfatto. Comunque questo era l'ultimo video dell'anno un anno che è stato incredibile spero che i miei video siano stati all'altezza e spero che le mie esperienze siano state interessanti. Grazie a voi per aver permesso tutto questo se sono qui a ricordare questo 2021 è grazie alla community che ho e che mi supporta e questo veramente mi rende molto felice. Dopo questa riflessione non indifferente è arrivato il momento di chiudere se volete vedere ancora i bigliettini di inizio anno per i progetti per il 2022 fatemelo sapere nei commenti così inizio a prepararli. Vi ringrazio per aver visto questo video noi ci vediamo a gennaio più carichi che mai Scaldate i motori e buona visione! Ciao! Grazie a tutti.